Ciao, siamo qui con i ragazzi di Casa Surace, oggi a Potenza, e ci proviamo a chiedervi ragazzi, un consiglio che date ai giovani? Ma ai giovani fate tutto quello che non facciamo noi, così vi trovate bene, no? Ti è piaciuta? Ti è piaciuta, va bene, sono d'accordo. E soprattutto, grazie, lei è? Rambo, che mille opportunità, cioè un consiglio a dare ai giovani è provoce... Lei non l'ha detto, però anticipiamo, non l'ha detto ancora. No, come fai? Leggi nella mente, incredibile. Poi la seconda domanda, quali sono le opportunità che voi avete colto e che magari è importante per i giovani cogliere queste opportunità? Ma secondo me per i giovani l'importante è essere determinati, seguire quello che più o meno è quello che vi piace fare un po'. Fanno l'applauso ancora prima di finire la risposta. Grazie, a fiducia, è un intervista troppo a fiducia. Allora, la parola chiave non è opportunità, la parola chiave è cogliere, si dice cogliere le opportunità. Voi cogliete quello che sia, pure melenzano, pomodori, va bene lo stesso. O cogliete le opportunità, anche cogliere i pomodori è un'opportunità, no? Quindi sfruttate e cogliete le opportunità. Grazie mille ragazzi dei The Jackal. A voi la riesto. Sì, è una casa surace. Ciao. 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 Ciao.